Salve a tutti i colleghi del Foro di Potenza, i colleghi degli altri fori in cani, sia avvocati che praticanti abilitati al patrocinio, sia i praticanti allievi dell'Istituto Superiore di Studi Giuridici da me invitati. A tutti voi colleghi del Foro di Potenza, di Matera, di Lago Negro e di Meschi, giungano il mio condiale e assoluto saluto e i miei ringraziamenti per la vostra partecipazione. Mi presento subito, sono l'avvocato Maria Samira Lemmo del Foro di Potenza, mi occupo principalmente di materie processuali e analistiche, di diritto penitenziario, di diritto tributario e di alcuni settori del diritto civile. Sono presenti su web con verosi articoli giuridici e contributi in video di carattere giuridico, su vari siti e portali giuridici, oltre che ovviamente nel mio portale giuridico www.giuristiedirito.it dove è possibile seguirmi costantemente nelle attività di formazione. Sono davvero contenta, emozionata, orgogliosa e soddisfatta oggi, 4 giugno 2010, in quanto devo con piacere prendere atto che l'impegno che ho amorevolmente e appassionatamente profuso per l'organizzazione del Pormegno ha dato dei suoi frutti, se è vero che la presa... Grazie. 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 Grazie.